Il venerdì 24 avremo un gruppo che a grande richiesta attorno al Casino di Sanremo che sono i Pipers che intratterranno i nostri clienti in una cena di gala al nostro roof meraviglioso per poi cercare di coinvolgere maggiormente tutti i turisti che ci saranno perché ricordo che ci sono anche dei posti aperti e che possono essere prenotati anche dagli esterni del Casinò. Quindi Casinò sempre più location di luoghi e di eventi che caratterizzano Sanremo ma aperto anche verso la città. Dopo i Pipers ci sarà Umberto Tozzi, l'otto, sempre riferito al roof e sempre con cena di gala per i nostri clienti anche lì dei posti riservati per gli esterni che cerchiamo e speriamo possano apprezzare sempre di più il nostro Casinò per poi spostarsi il Novell 10 al nostro teatro dell'opera del Casinò di Sanremo dove ci sarà uno spettacolo di Ambrangiolini anche lì in giro per l'Italia ha fatto tutto sold out quindi noi abbiamo grandi aspettative. Grazie. Grazie.